Enrico partiamo da voi il vostro studio di che si occupa allora noi siamo una realtà diciamo medio piccola però ci occupiamo a 360 gradi di architettura principalmente residenziale ma ci occupiamo tantissimo anche di industriale e anche di tutto quello che è il mondo terziario quindi uffici e quant'altro. Che progetto vuoi raccontare oggi allora fuori studio? Allora oggi vi volevo parlare di un progetto molto interessante dal mio punto di vista per la tecnologia ovviamente la tecnologia poi dopo mi ha aiutato anche a raccontare la composizione della casa ed è una casa di civile abitazione. Che adesso stiamo vedendo quindi raccontalo un po' nel dettaglio. Allora la sfida più grossa di questo progetto è portare una tecnologia di avanguardia naturalmente considerando sempre la questione green la questione riciclo e la questione recupero in un'area che purtroppo notoriamente la bassa padana veneta è un'area un po' un termine che non mi piace tanto però sottovalutata. È un'area che ha dato tantissimo al linguaggio architettonico del Veneto che però in questi ultimi anni ha perso davvero tanto con le contaminazioni industriali non pensate un'urbanizzazione davvero selvaggia, scellerata, sì selvaggia nel senso senza un contenuto vero e proprio e senza un piano di recupero del territorio e via discorrendo. Quindi la sfida era proprio questa portare una tecnologia avanzata a favore di un posto. Quando parli di tecnologia come gestione degli impianti? Parlo proprio di costruzione del fabbricato, del manufatto. Quindi che cosa avete previsto? Praticamente è una casa che non prevede l'utilizzo del calcestruzzo se non nelle fondamenta perché purtroppo dobbiamo rispettare delle normative e la casa è tutta secco con una struttura a telaio in acciaio. E quindi poi sul discorso interno i tamponamenti? Praticamente allora naturalmente ogni progetto poi dopo ha i suoi dettagli nel caso specifico al di là della struttura in acciaio che è l'ossatura portante della casa completamente smontabile un domani e completamente riciclabile. è tutta avvitata sostanzialmente. Quasi come i padiglioni, no? Come i padiglioni, sì certo. Naturalmente ha una rispondenza sismica importantissima. La questione trasmittanza termica e quindi la qualità del contrasto all'utilizzo di energie e via discorrendo per il riscaldamento e raffrescamento del manufatto dipende molto dalla qualità dei materiali che uno pensa di poter mettere e anche dalla possibilità economica che eventualmente il committente può avere. Certo è che quando fai una scelta di questo tipo devi comunque avere la forza e la voglia di andare fino in fondo. Poi quando fai una costruzione come dici tu a secco deve essere tutto predeterminato, preprogettato. Sì, la cosa affascinante anche di un progetto del genere è che davvero il contributo tecnico del progettista che non è solo l'architetto o l'ingegnere, anche spero i geometri che arrivino a poter pensare cose di questo genere qua, perché no, sarebbe importantissimo, è che il lavoro di gruppo dal termotecnico all'ingegnere strutturista all'interior design, ovviamente nel mio caso è abbastanza facile perché sono tutte figure che sono all'interno del mio studio, compreso il geologo, quindi siamo andati dalla rispondenza della forza del terreno fino alla copertura, abbiamo osservato tutto, naturalmente con la collaborazione dei tecnici specializzati che forniscono poi dopo la struttura stessa, certamente. Senti, invece in qualche modo richiama anche l'outdoor, questo progetto, perché uno dei temi importanti è anche la gestione dell'ombra, la possibilità di vivere in quella fascia tra interno e esterno, quel diaframma, qual è la vostra visione dell'outdoor? Allora, innanzitutto va sempre osservato, la prima cosa da fare è dove tu progetti, l'orientamento, dove tu sei, ma anche l'area, perché adesso noi abbiamo in Veneto un'area molto eterogenea, poi ho avuto la fortuna di poter operare anche in altri territori italiani e anche oltre confine nazionale e quindi capisci che un progetto, per esempio in Inghilterra, piuttosto che in Spagna, io ho lavorato in Andalusia, è pacifico che devi fare dei ragionamenti diversi, non so, dal nostro pedemontano, per esempio in Valpolicella. Sono situazioni totalmente diverse. Detto ciò, la questione ombreggiamento, la questione protezione dei muri con l'outdoor è fondamentale, ma ce lo dice il periodo storico che stiamo vivendo, non è che c'è bisogno di fare tanti ragionamenti. Basta osservare cosa sta accadendo, il surriscaldamento, quando tu e hai, alcuni progettisti esagerano anche con queste benedette vetrate, tu le metti a sud, hai inevitabilmente un effetto serra o un surriscaldamento che ti deriva da questa esposizione un po' esagerata. Fortunatamente, come dicevo all'inizio, la tecnologia ci porta... Con ombreggiamenti tecnologici, semoventi, immobili, comunque c'è la possibilità di lavorare. Da non dimenticare, l'estensione verso l'esterno della casa stessa, questo rapporto interno-esterno diventa veramente complice e affascinante per certi aspetti. Quasi un'altra pelle. C'è una parola chiave che vi identifica con le onde di progettare? Assolutamente sì, è una parola che ultimamente la sento usare molto spesso. Speriamo non ha sproposito. Sì, a volte sì, purtroppo. Mi appartiene fin dagli studi universitari che ho fatto all'Oiova di Venezia. Per me è resilienza, il concetto di resilienza che si può estendere davvero a vari aspetti, ma questa forza di appartenere il progetto al territorio dove viene pensato, dove deve essere, è fondamentale. Un po' come dicevo prima per l'esposizione, un po' per l'andamento del territorio, un territorio piatto ha dei concetti, un territorio scosceso ne ha degli altri. Quindi il fatto di appartenere, il fatto di essere forti, di voler essere lì perché sei lì, è fondamentale. Grazie. Grazie a te. Grazie. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a tutti.